Ma l'idea di questa giornata? Per dare già un segnale forte comunque di vicinanza al popolo ucraino perché già in queste ore le vittime si contano e ci sono gravi ripercussioni anche sulla popolazione civile ucraina e ci tocca poi direttamente perché veramente è vicino per quanto sembra così lontano. Io sono qui prima per i miei figli ma soprattutto per mio figlio che lui per tre anni è combattuto in guerra però purtroppo quest'estate a luglio ho perso, ci è mancato e la prima cosa è per loro, per questi che hanno dato la vita perché dal 2014 che questa guerra è iniziata